As the stone giants thundered in the distance, a company, almost a few dwarves short, gathered their bearings and desperately sought a cave in which they could take shelter from the storm. Eeeh, ciao a tutti ragazzi, qui Pepe che vi parla e benvenuti qui oggi in questo nono, sì nono, diecimo, ottavo, no vabbè settimo, episodio di Lego Lo Hobbit. Non so perché non mi sia uscito il nono, ancora ci mancano due episodi. Eeeh, ragazzi, allora io in realtà questo episodio l'avevo già fatto, ma vi giuro, ho avuto un sacco di bug, spero che non mi ricapitino di nuovo perché davvero, cioè praticamente poi vi dirò più avanti dove ho riscontrato i bug. Ma veramente, cioè, una volta mi è cresciato il gioco proprio perché aveva smesso di funzionare, un'altra volta tipo avevo fatto un attacco con Bomburre e mi si è tipo incastrato nel nulla, non potevo cambiare personaggio. E quindi, insomma, ho dovuto rifare tutto da capo e quindi eccoci qua. Vabbè, intanto entriamo nella grotta dei Goblin. Drenched and exhausted, the company stumbled across the entrance to a large, empty cave. It seemed luck had granted them an ideal place to wait out the storm. However, all was not as it seemed. I look safe enough. Search to the back. Caves in the mountain are seldom unoccupi. We were to wait in the mountains until the Andalves joined us. Plans change. Bofa, take the first watch. What's that? Orbe, fish. No! Oh! Whoa! What you doing? What you doing? Oh! Sì! Ma no ma che cazzo E vabbè gli frega Ma no ma questa cosa la parola diceva a cosa A Gollum No all'orco Ok scusate il taglio Dovevo mandare un messaggio con il telefono Quindi Insomma vabbè tanto a voi non cambia nulla E va bene ragazzi quindi questo episodio So cosa fare Insomma poi magari non mi ricorderò Di qualcosa però So cosa fare Ora mi sa che forse mi calcola Quello che avevo preso Nella Insomma nella puntata Che poi non vedrete perché Era successo un casino E tra l'altro questa puntata sarà molto lunga Cioè o meglio a quanto ho visto io Così durava parecchio Ora dato che so dove andare non so Però Anche Cioè comunque questo livello È carino eh Ora vedrete perché poi incontreremo pure Gollum Giustamente Però Non Cioè non mi piace il fatto che Si controlla questo orco Che tra l'altro è un goblin Non è un orco Si controlla questo orco Piuttosto che Smigol Che Gollum Insomma io avrei preferito Gollum Però vabbè Ragazzi comunque ho notato che Non ho notato Nel senso mi avete detto che nel Cioè nel vecchio episodio mi avete detto Che Insomma Comunque vadano le cose Voi seguirete questa serie Insomma chi è interessato Continuerà a seguirla E la cosa mi fa molto piacere Perché come ho già detto nel vecchio episodio Io continuerò Come andrà a finire Anche con una sola vive Io continuerò Però mi ha fatto molto piacere Sentirvi dire che comunque Quelli a cui tengono questa serie Ci sono Insomma Quindi mi avete fatto capire che Sempre Non sono insomma Questo gioco non è che non piace a nessuno Ma sembra a qualcuno di voi piace Quindi Mi raccomando Continuate a seguire Perché Mi fa molto piacere Perché ripeto A me Alla fine delle vive Non me ne è forte nulla Cioè Non mi interessa particolarmente Però Com'è Ad esempio I video di Halo Si fanno 200 IV Oh Mi stavo attaccando Oh Ma che è scemo Oh aiuto Che gli è preso Aiuto Aiuto Ma perché mi sta attaccando Ma che ha No Forse non è più confuso No Aspetta Ah ok Però non mi era successo Quando l'avevo registrato Bastardo di un orco Ok Qua A differenza dei signori gemelli Possiamo farlo anche con gli orchi Che poi in realtà sono Goblin Qua lo chiamano orco Però Na 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 Fa anche la parte con gli indavinelli Poi vedrete che è molto carino È fatto in un modo molto Eh Molto bellino Quindi Davvero fantastico Peccato per questi orchi Che per la fine Dovrebbero essere goblin Però Per il resto Non è affatto male Questo livello Forse dura un po' troppo Anzi Io nemmeno l'avevo completato Addirittura Tanto per farvi capire Perché comunque Ve l'ho detto Poi Proprio bug Su bug Ho dovuto riavviare Quindi ho detto Vabbè Faccio tutto da capo Eh vabbè Come al solito Distruggiamo tutto Anche se in questo livello Non ci serve particolarmente Molto materiale O meglio Ora qui sì Mi pare Sì sì Che ora dobbiamo distruggere questo Eh Perché io comunque Sono sincero Lo dico L'ho fatto quindi Insomma Non faccio finta Perché alcuni fanno così Tipo Hanno già giocato al gioco Però fanno finta Che non sanno cosa fare Non ha senso Insomma Non si è Naturali Invece così Vabbè Lo dico Bisogna fare questo E quest'altro Tra l'altro Un watch Quindi una guida Vedi ancora E poi vabbè Cioè Piace anche come serie Nel senso Che la gente la segue Perché Cioè Alla fine A me piace più così E la cosa Non può che farmi Ancora più piacere Va bene Banco da lavoro Aspettate che qua Distruggo Va bene E vabbè Allora Questo qui no Cioè Questo qui sì No Questo qui no Scusate ragazzi ma Cioè Sono un po' confuso In questo episodio Sto Sto deridando Tra che sono anche Parecchio stanco E vabbè Comunque Poi questo qui Poi no Ho sbagliato Poi questo qua E poi questo qui Abbiamo fatto tipo La scavata Dei mini mattoncini Poi sto cesto Una catapulta Comunque E Ecco Sembrava che avessi detto E Ok La catapulta La catapulta Mandiamoci l'orco Bilbo che si fa male Con bungolo Ah tra l'altro Se avete notato Andando qua Vabbè Per farci strada Se avete notato Qua a differenza del film Che secondo me È una grave mancanza Una grave dimenticanza Perché Vabbè Poi ve lo dico Poi Come 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 pushes Pot Do Ness Va Ness Ob Ness Il mio nome è Bilbo Baggett. Sono un hobbit da la Shire, e voglio riuscire a perdere così pronto possibile. Oh, lo conosciamo. Non siamo salvati 5 hobbits. Quindi, perché non siamo? Ah, così a random. Si, si. E se si perdono, cosa? Sì, se si perdono, ci si perdono. Il mio nome è vero, come nessuno sa. Il mio nome è più alto da i bambini. Lì, 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 lì. Vabbè, avevo saputo rispondere prima anche senza cose, comunque la montagna. Ora vedete cosa dovremmo fare per fargli capire che, insomma, si tratta della montagna. E' molto carina questa cosa. Ehm, risuggiamo che poi tra l'altro, cioè, ci prendiamo un botto di materiali così anche ci troviamo appandaggiati per quando sarà più là. Abbiamo anche un botto di corde, che poi non ci servono quasi mai. Però... Vabbè, qua non serve a nulla. Eeeh... Ah, sì, vi dovevo dire. Avete notato che Punculo qui è sempre illuminata, no? Ecco, nel film, ad esempio, questa cosa non succede, non ho capito il perché. Cioè, sarà una dimenticanza, molto probabilmente, perché qualsiasi lama elfica, chiunque abbia visto il film, insomma, sa che qualsiasi lama elfica alla vista, ehm, insomma, dei nemici, con la presenza dei nemici si illumina. Invece su Coso, su Lobby, T-Film, succede o non succede. A Gandalf addirittura su Il Signore degli Anelli non accade proprio. Ecco, vedete come abbiamo fatto per rappresentare il... insomma, la soluzione. E' il vento. All'inizio non mi era venuto in mente quando ho fatto... Ehm... Cioè, insomma, ho registrato quell'episodio. Però poi... ci ho pensato dopo. In ogni caso, finendo il discorso con lì delle lame... Sì, sì, Gollum, però non... 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 di surbarci, ti prego. Ehm, dicevo... Quindi, alla fine, anche con... Insomma, con... Ecco, da dove gli rappresentiamo il vento con... Ehm, la... La vela, insomma, con il mulino, ecco, non la vela. Con la vela del mulino, più che altro. Ehm, va bene, comunque, stavo dicendo... Insomma, nel film, questa cosa della spada che si illumina con la presenza degli nemici... Eh, a quanto gli capita prima, invece qua nel gioco... Quindi, cosa che si... Gollum, che si cazzo, tipo, no, non lo doveva indovinare! E quindi, ragazzi... Cioè, comunque... Questo è, va! Ok, eh, questa qui non me la ricordo, ad essere sincero. Ehm... Anche perché non ho letto bene, quindi non... Dovrei ricordarmola così a memoria. Oh! Abbiamo trovato il bronzo, perché poi non è rame, è bronzo. Perché poi, se non ricordo male, il bronzo è una miscela, insomma... Una... Una cosa che si fra... Si fa... Quando... Quando, insomma, si miscelano, mi pare... Rame d'acciaio, una roba del genere. Quindi non è che esiste il... Il bronzo pure, no? Ma... Il rame, più che altro. Tu sei bloccato, mentalmente, però. Va bene, ora dobbiamo distruggere queste ossa qui. Con... E così gli facciamo la scala... Tortua! Non l'ho saputo fare mai. Proprio... Mi è venuta malissimo la voce di Gollum. Vai, facciamo cascare tutto. Ehm... Non mi ricordo. No, prima di costruire voglio... Ricordarmene. Non me lo ricordo. Eh sì, va bene, abbi un po' di pacienza. Ehm... Di nuovo banco da lavoro. Per fortuna dovremmo avere tutti i materiali, quindi non abbiamo problemi. Eh sì, il... No. Ehm... Per fortuna non abbiamo. La corda ne abbiamo ancora. E la pietra pura. Va bene, va bene, va bene. Tanto Gollum con i pesci. Ehm... Allora... Non mi ricordo. Non mi ricordo proprio. Ah sì, il tempo. Ora mi sono ricordato. Eh... È il tempo. Perché ora dovremmo costruire una clessidra. Quindi è il tempo. Per fargli capire... Ehm... Ehm... Insomma, è scesa la levetta. Ah, ma possiamo farlo pure con la croce direzionale? Eh vabbè, ma tanto quella lì... No, non è questo. È questo, eh vabbè. E poi questo qua. Va bene. Comunque, eccola qua la clessidra. Quindi adesso Gollum ci dovrà aiutare ad uscire da qui. È il tempo. L'ansposta... È il tempo. È il tempo. No dai Gollum, non piangere. L'anello! E poi lo pende così però. E manco se ne accorge che Bilbo pure glielo pende. Comunque. Ho vinto il gioco. Ho promisato di mostrare il passaggio. Ehm... 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 Se non ho sentite il passaggio. Ehm... Ehm... Èdì! È un gioco d'belli! Lassate! Lassate! Le cune! Ok, tra l'altro, ragazzi, visto che il coso lì, insomma, vabbè, lui si mette a cantare, prima ha paura e poi si mette a cantare, stavo dicendo, quando eravamo prima con Bilbo, praticamente avete notato che l'orco era stato attratto dall'anello? Cioè, se quell'orco si acchiappava l'anello, era tutto finito, non esisteva neanche il Signore degli Anelli, perché lo dava a Sauron, perché tanto Sauron gli è tornato, quindi, alla fine glielo davano a lui, ed era tutto finito. Sauron ritornava alla sua... eh sì, non cantare. Sauron ritornava alla sua forma umana, conquistava tutto, e bye bye, fine... fine dei giochi. Ma starti zitto, ma come... Va bene. Fottuti orchi, morite, seppre non ci capisco nulla, con tutti questi orchi, goblin, che poi dovrebbero essere. Boh. Fottuti orchi, che cacchio di... di canzone del cacchio, che cacchio di canzone del cacchio. Ma starti zitto, ma guardavano quanto si è suonato. Ah, Gandalf, davvero. Ehm... Io sono... Gandalf! Ehm... Fight C'è tipo una canzone da combattimento Però non sarebbe più watch Quindi non posso farlo C'è tipo una canzone da quelle musiche Che si tendono nel giochino di picchiatura Bravo Tori Che l'amore E ora speriamo solo che non mi cresci il gioco Perché praticamente prima mi era cresciato qui Quando ci ho provato prima Dai io spero Oh lo fai fare Ok che non mi è cresciato Per fortuna Ma perché sapete com'è Cioè per puro caso Insomma avevo sempre quel problema Avessi avuto sempre quel problema Il gioco ci avrebbe messo Insomma il bastone fra le ruote Perché non mi sarebbe più stato possibile Continuare il gioco E sarebbe stato bruttissimo Insomma io dico Voglio continuare questo gioco a qualsiasi costo E poi me lo impedisce il gioco stesso Mi sento La sento presa in quel posto Ecco D'altro forse sto un po' Sbagliando a parlare Ma voi non fateci caso Ai Perché ragazzi Sono veramente stacco Però Insomma non ho avuto tempo Altro tempo Per fare questo video Thorin fai tu Boom Ah che bello ha fatto Dori Ma per puro caso Ah non lo sapevo questo Aspettate Voglio fare Boom Ma non fa un cacchio Ma no Sai perché mi fa lanciare solo magie Io voglio Io voglio utilizzare pure la spada Come sulle Questi miei neri Lì si che Gandalf Spera qualcosa Aia Aspettate Magari Facendo così Zaino Ecco No La posate Ma dai Non le posso tenere Entrambe C'è Una sola Ok Vabbè stavolta facciamo Dori No No Io voglio Thorin Però con lui Però lui non lo può fare Quindi facciamo lui E poi lui E poi vabbè Non ci ho concluso nulla Però vabbè Run bitch Run E poi perché cacchio Se non l'avete notato Ci siamo divisi le strade Infatti Come potete ben notare Siamo solo una parte di nani Non ha senso questa cosa Però È solo per dare uno spirito di Insomma Di allungamento Di longevità E anche di Non ci ho capito più nulla Non Non so capendo Chi Sono i I nostri alleati E chi meno Potrei salvare Qui no Vabbè stavolta salvo Dato che Questo pezzo ci ha dato parecchi problemi Quindi Mi ha dato parecchi problemi Quindi Questa volta Meglio salvare Sì sì Dopo questa brutta esperienza Poi riesco a salvare A meno se tipo Mi rifai i bug Posso ricaricare da qui Non ci fa nulla Invece di fare tutto Da capo Eeeh Vabbè Comunque stiamo andando Più veloce Sì perché Ehm No sono morto Perché Invece prima Non sapendo cosa fare È stato molto più lungo Non mi salta qua Salta Oh Aia Ci vuole Dualin Dove caccio sei Eccoli qua Brother of Balin Va bene Ok Madonna Però per il combattimento Dualin È il numero uno Addio Me lo dimentico Me lo dimentico Sempre qua No Non l'ha preso Vabbè Andal 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 Il filo imbambito Che caccia Hai fatto Non lo so nemmeno io Che dobbiamo fare Ah dobbiamo Ah sì sì Non ricordo chi Fosse Fra i nani Ma noi facciamo I due I fratelli I fratelli Scudo di quercia Diciamo così Che però Cioè In realtà Ma per Allora che ci faccio caso Ma i nani Non ne hanno cognome Ora non ci sto ragionando bene Ma i nani Non ne hanno cognome Perché tipo Che ne so Thorin Scudo di quercia Cioè è tipo un soprannome Scudo di quercia Non è Un Il suo Cioè è un soprannome Appunto Non è un cognome Quindi Perché poi Balin O forse sì Forse quando tipo I signori di anelli Vanno nella torre Nella tomba di Balin Forse Lì dice uno Anche il suo cognome Però non lo so Che cacchio di Madonna Madonna Ahia Ti sglaziati Qua abbiamo la controparte Di Di Ori L'ori dei poveri Diciamo Allora Che devo fare Qua verde Vai lancio Poi Qua Rosso Vabbè Vabbè Faccio così Che forse è meglio Qua rosso E qua Blu Ok A posto Tutto fatto Non mi laggare qua Perché ho visto I frame rate Che sono andati Proprio a farsi benedire Non dire perché Vai Bene Allora Qua Tutto a posto Ma no Il sgraziato di un orco Dori Dori Ci servi tu Dori Aspetta però Prima Fammi uccidere Quest'orco Ok Ok B Abbiamo un B Ci vuole forza qua Vai 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 Bravo Prendiamoci questo legno Ci può sempre servire Ce ne abbiamo 11 Sì sì Ci serve assolutamente Un po' di legno Scusami Non so a chi Ho colpito Ma scusi Ah Ho pure distrutto La corda Senza farla a posto Sì Ci ho distrutto In un modo un po' misero Dato che No Aiuto Tu non lo tocchi Il mio amico Dori L'esploratore Vai 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 Bravo Bravo Oh Cammina Madonna mia Che cacchio Oh ma Stavate deve essere Per forza così Baccata E tra l'altro Ora quando arriviamo In quel punto Speriamo che non si ripeta Lo stesso bug Perché è stato davvero Stranissimo Come bug Cioè Inevitabile Tra l'altro Perché Non è Tipo Dobbiamo distruggere Una cosa con l'ascia E poi Tipo Caschiamo di sotto E non ci possiamo muovere più Va bene Vabbè Ora ripassimo di nuovo I vecchi nani Ok Qua distruggiamo Un po' Tutto Ma comunque sta durando Cioè O meglio Così non ho Cronometro Non ho nulla Però sempre Dura un bel po' Questa parte Ma una Trenti No Tenticinque minuti Mi sta ci dura E penso che non abbia Nemmeno taglio Questa cosa Quindi Questa parte Dato che Più o meno Mi ricordo Cosa fare Però alla fine Non l'ho giocato Una volta Quindi Vado in memoria Ma Dai però Qua ci vuole Chili Perché me lo ricordo Così E così Poi questa cosa Non è calava Dalla nostra parte Così magari Ci aiutava meglio Vabbè Andiamo Vai Fratelli Scudo di quercia Lo so che non è il vostro cognome Ma Dato che siete i cugini di Thorin Eh vabbè Si regna Ne stiamo prendendo anche abbastanza Buono 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 Good Very good Very good Very good Ok Prendiamoci la manovella Stuggiamo qui E costruiamo Il marchigegno E poi Gli applichiamo La manovella E poi giriamo Così Ah Vedete Quando si sa Subito la soluzione Beh comunque Sono cose semplici Cioè alla fine Non è che ci vuole Proprio tutta questa conoscenza Del Del livello Cioè Alla fine Non ci sarebbe andato Anche così Insomma A intuito Ecco Ecco Ci stiamo avvicinando A partitico momento In cui mi è successo Il bug Mi è successo proprio Con Tra l'altro Io noto Sti Tipo Sti muri invisibili Che No ma noi tra l'altro Qui siamo altri nani ancora Perché Vero 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 Vabbè Stavolta uso lui Non mi interessa Basta che c'è Un'ascia Perché Bufur Non ha un'ascia Lui No Vabbè No Bufur No Bufur Dico non ha un'ascia Quindi Tipo ha distrutto Con il suo mestolo Il coso Là Ed è successo Il casino Ok Ah il problema Siamo costretti Ad utilizzare Per forza Bufur Spero che non mi si ripete Il problema Proprio Ho questa paura Perché ci stiamo avvicinando Ora vi faccio vedere Dove è Ho questa paura Ragazzi Regate per me Perché è proprio Oh no no Ok 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 No niente Diciamo che il Il pezzo si è Ok 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 Meno male ragazzi Grazie per le preghiere Ok no Perché praticamente Quegli orchi A me Sono arrivati dopo Quindi cos'è successo Io con il cosa Avevo spaccato Insomma Con Bufur Avevo spaccato Quella cosa lì Qua sotto E gli orchi Tipo poi mi hanno Catturato là sotto E si è bacchiato tutto Non poteva fare nulla Insomma Non potevamo nemmeno Far passare i nani E' stato un casino Vabbè L'importante è che Abbiamo risolto Ma non male che A inizio livello Ho detto Vabbè Sto livello Non ci saranno Tanti banchi da lavoro Al momento È il livello In cui ne ha di più Ok Adesso mi è tutto nuovo Giusto Ah stiamo costruendo proprio No non è questo È questo Madonna Stare le rette Del coso Dell'Xbox Del controller Dell'Xbox Ehm No Questo mi sembra Sì E poi questo qua Va bene E poi Questo qua E mi sembra tutto a posto Ok va bene Va bene Vai 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 Va bene Va bene così No 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 Dio Madonna Mi sono suicidato Ah Ora sono molto più sereno Ma non è che si ripeta Un altro bug E allora vabbè Vaffanculo Lego Lobby Ti rimarda Cioè in quel caso Ti hai fatto proprio Malissimo Vabbè È inutile scendere qui È inutile Si perde solo tempo Si perde solo tempo Bombur Dai Che non l'abbiamo utilizzato Molto spesso Lui È suo messolo Dai Ragazzi Mi si è bloccato Mi si è bloccato Non so voi Ok mi si è ripreso Oh Lego Lobby Basta Basta Mi sta facendo venire Tanti mini infarti Basta Ah Il gioco ci vuole mettere Il suo Per non farci continuare La serie Davvero Cioè Che cacchio Tra l'altro Sì Vabbè Ma io sarò una mezz'ora Buona Che registro No vabbè Un 20 minuti No ma anche di più Forse Vai Gandalf Vai che ci casca addosso Ecco Ah sì Quando usano poi la roda No Sono morto Mi sembra di star spingendo La cosa Vabbè Qua ci vuole Boom Strike Tutti morti Madonna Tutti morti Qua ci vorrebbe Non orco Ma Comunque ragazzi Mi sa che stiamo finendo Già Il primo film Perché vedete Cioè Manca davvero poco Alla fine del primo film Cioè Basta che si esce Da questa montagna Arriva Azog Penso che siano Due livelli massimi Perché Ancora c'è il pezzo Con Bilbo Ma poi il resto Insomma Mi pare che dopo di qua Quando escono di qui Poi c'è Il pezzo con Azog E le aure Ecco Altro combattimento E noi da dove siamo sfuntati Con Tori Dato che eravamo In strada diverse No qua Non posso far nulla E io adesso che faccio Perché ho notato Che adesso i boss Chiamiamoli così Non hanno più la vita Mentre sui vecchi Lego Avevano la vita Adesso non ce l'hanno più Aiuto Aiuto Qua sta cosa Non penso Forse si Ma vediamo Ma non penso proprio No A meno che la può distruggere lui Cosa Ah Sì vabbè Ma dopo tre anni Oh Tra l'altro non ho fatto caso Cosa ha combinato Cioè Ho visto così all'improvviso Cacchio di Sata Mi sono cagato Mi sembrava di Aver qualcuno dietro di me Madonna Kill me Moooo Eh ma dobbiamo fare Ma in strada dobbiamo Semplicemente distruggere Orchi e attendere Bacco Non c'è nient'altro da fare Fai qualcosa Please Ecco Bravo Ok vabbè Allora bisogna Semplicemente attendere Va bene Sì vabbè Nori Però ti stai prendendo Tutti in merito Vabbè Manca l'ultimo colpo Ehm Ecco bravo 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 Anzi no bravo Fallo tu Così attacca Thorin Almeno fra i due Ecco Anche se dovrebbe essere Grande a fuggire Ah ecco appunto Ah no Ah vabbè Qua è orchi Vabbè Oh si è fatto almeno Una bella kill No pure il pezzo Madonna quanto dura Questo livello Eh guardate lui Sembra di essere Tipo Madonna Ma loro che flutto E noi invece che non facciamo nulla Cioè noi stiamo a Noi sfidiamo la legge di gravità Differente Vabbè che Vita Jackson ha una legge di gravità Tutta sua Giusto però Aiuto madonna Ci siamo Proprio liberati Così Meglio che ti stai zitto Ecco Ti stai zitto It's Ours. It's Ours. Wait! It's Ours! Wait! No! 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 Eh, in effetti non hai tutti i sorti però. Perché voi... Cioè, in realtà Bilbo... È la colpa di Bilbo. Cioè, cacchio... La città dei Goblin. Cioè... Alla fine è stato Bilbo a essere dalla parte del torto. Perché... Cioè, alla fine Gollum ha tutte le sue ragioni, ma... Comunque... Ragazzi... Io spero che questo lunghissimo video... Perché vedo che verrà 25 minuti... Alte non addirittura 30. Vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto invito a rilasciare un bel me gusta. E comunque supportatemi che... Anche un semplice commento, un semplice like... A me... Fa molto piacere. E anche una semplice visualizzazione. Ma se siete arrivati fino a questo punto... Vuol dire che avete visto il video. Va bene, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi ripeto... Che vi è piaciuto. Vi invito a rilasciare un bel me gusta. E noi ci sentiamo con un prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!